C'è il rinnovo del contratto collettivo nazionale, fermo ormai da 27 mesi, alla base dello sciopero dei lavoratori dei servizi ambientali, pulizia della città e ritiro dei rifiuti in primis, che la mattina di lunedì 8 novembre si ritroveranno in Piazza Italia, Pescara, con i sindacati CGL, CISL, UIL e FIADL, con l'obiettivo di sottoporre all'attenzione di prefetto e sindaco i problemi che affliggono il settore, come spiega Massimo Di Giovanni della funzione pubblica della CGL di Pescara. Lo sciopero è per il settore dell'igiene ambientale, poiché il contratto nazionale di lavoro è fermo per la parte retributiva e normativa ormai da 27 mesi, quindi stiamo facendo discussioni a livello nazionale con la parte datoriale e non si esce da questa impasse, quindi è chiaro che le organizzazioni sindacali hanno dovuto proclamare lo sciopero generale per lotto. Noi naturalmente manifesteremo con un presidio dalle 10 alle 12 davanti alla Prefettura di Pescara abbiamo chiesto anche un incontro con il prefetto e con il sindaco di Pescara per spiegare le ragioni che stanno alla base dello sciopero generale dell'igiene ambientale. Essendo un servizio di pubblica utilità siamo sotto l'egita della legge 146-90 che è la regolamentazione dello sciopero, pertanto quando abbiamo proclamato lo sciopero abbiamo tenuto conto appunto del riferimento legislativo alla Commissione di Garanzia a livello nazionale, tant'è che le aziende dovranno garantire alcuni servizi indispensabili minimi. 27 mesi quindi il contratto è fermo da questo lasso di tempo, 27 mesi in cui c'è stata la pandemia e quindi i lavoratori di questo settore sono stati ulteriormente sollecitati per il ritiro dei rifiuti speciali per i malati Covid, insomma c'era anche questo ulteriore aggravio che è stato sostenuto dai lavoratori. È vero, noi abbiamo durante la pandemia 27 mesi in questi due anni, dentro questi 27 mesi c'è stato qualcosa come la pandemia e ancora gli strascici insomma li abbiamo se portiamo le mascherine. È evidente che questi lavoratori hanno garantito e sono stati esposti appunto poiché hanno garantito questo servizio di pubblica utilità andando anche a ritirare i rifiuti in quelle famiglie dove appunto vi era il Covid. Io ricordo benissimo che andavano bardati dal piedi alla testa e molti di questi lavoratori hanno contratto il contagio proprio durante il loro lavoro di raccolta rifiuti e altri ancora purtroppo ci hanno rimesso la vita. Ci sarà anche questo diritto da far valere, insomma il riconoscimento di un lavoro svolto. Certamente sì e il contratto, il rinnovo del contratto avrebbe ancora più valenza da questo punto di vista perché sono lavoratori che non si sono sottratti per nulla il loro impegno quotidiano di pubblica utilità per garantirlo.